L'immagine rappresenta un nuovo logo per FARM, noi abbiamo immaginato FARM come un acronimo, per cui FARM significa Fashioning a Renewed Mankind, che in inglese significa dare forma oppure vestire una rinnovata umanità, questa idea che dare forma e vestire è la stessa parola. Rinnovata umanità in che senso? Perché un'umanità che sa, che è consapevole della verità di base, che siamo tutti esseri umani, non importa la forma, il colore, la dimensione, la specie è una e non c'è veramente da sbagliarsi. Quindi siamo tutti, tutti uguali, nonostante la grande variabilità di forma, di pensieri e di idee. E quindi questo logo, nella nostra immaginazione, lo rappresenta. Se voi guardate un singolo rombo, potete immaginarlo come due teste e allora sono due persone che si tengono per mano. In questo modo. E questo ovviamente è il corpo, quindi queste sono le due braccia e le due braccia. E poi abbiamo ripreso il verde e il rosso, che sono i colori principali di FARM. E perché il nero? Perché lavorando durante questo workshop abbiamo capito che in realtà il nero è il colore dell'integrazione. Perché se voi prendete tutti i colori del mondo e giocate a mescolarli, partendo dai colori primari, poi secondari, terziari, esce fuori il nero. E questa è per noi un'immagine, insomma, meravigliosa. E ci siamo divertiti a stampare a mano dei prototipi di tessuto, li abbiamo stampati realizzando un...